Stiamo cercando di mettere il massimo impegno, stiamo uscendo fuori da un momento di crisi profonda, abbiamo riaperto il Pala Barbuto che è qualcosa di straordinario, restituire il Tempio della Palla Canessa alla città era per noi uno degli obiettivi principali. A breve riapriremo il Pala Vesuvio, anche la piscina Nestore che è una piscina che definirei quasi sociale, il San Paolo, i lavori sono iniziati, c'è adesso grande attenzione, l'opportunità sono le università, sfrutteremo al massimo questa opportunità, noi siamo i proprietari di quegli impianti, vigileremo che i lavori siano fatti in tempi brevi e soprattutto perché ospichiamo che siano restituiti alla città di Napoli degli impianti che già oggi sono straordinari. Volevo solo ricordare che come ci sono state le Olimpiadi, ci sono state le Paralimpiadi, anche Napoli ha espresso campioni da questo punto di vista, ricordo Assunta Legnante, Vincenzo Boni. Vi ringrazio a voi e allo staff che veramente ci avete aiutato in quest'anno. Io credo che se tutti quanti percorriamo lo stesso tempo, credo che facciamolo tanto in servizio alla città di Napoli e allo sport napoliano. Grazie. 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 Grazie.